Alzi la mano che almeno una volta nella sua vita, durante un soggiorno in UK, arrivato alla cassa del supermercato si è sentito dire Hey, how you doing? Ciao, come va? E con grande imbarazzo ha pensato Ma dovrò davvero risponderle? Ma come se interessa come sto? Eccomi, mi è successo più volte e solo dopo quattro settimane ho capito che mi trovo di fronte alla proverbiale politeness degli inglesi e che alla commessa di fatto non interessava nulla della mia vita potevo semplicemente rispondere fine e sorridere Se anche tu non vuoi incombere in un culture clash come questo e ti interessa conoscere come funziona e quanto può esserti utile la comunicazione interculturale nel global business world, sei nel posto giusto Il mio nome è Francesca Primavera e da qualche tempo mi occupo di connettere le persone tra loro di creare dei ponti comunicativi ed è quello che vorrei insegnare anche a te Ti aspetto nel mio corso di Intercultural Communication in Business Focus Etiquette proprio qui, su Lezioni Online Ciao!